La notizia appena assoluta di oggi dalla Federazione Mondiale, IFMAR. La notizia mondiale di 1.8 scale nitro buggy in Brasile è scontata. La notizia mondiale di 1.10 scale nitro in Australia è scontata. In medium o better news, la notizia mondiale di 1.10 scale electric in Gubbio, Italia, è scontata fino a dopo l'esmero. Il evento di Dirt GP di Nemo Racing a Nemo Raceway UK è postponato fino a mei. Drake con Mugen vince a Thunder Alley USA. In Sud America, X-Ray successa con Bregante in nitro e electric 1.8 scale buggy e con Alberti in Nitro Draghi. Meyer, di Holland, è ora il driver di Nemo Raceway e Jessica Palson, di Sveglia, continua con Nemo Racing Agama. By Nuclear Japan, the ASM 2157 exhaust. The very aggressive and good looking nitro draghi by Agama, the A215T. di Mugen vince a Grazie a tutti